Musica Amici dell'esperto risponde, buonasera e bentornati dal vostro Tornio di Scalchi insieme a voi per parlare di argomentazioni utili dal punto di vista del lavoro dipendente, dal punto di vista del dottore di lavoro, fiscale, gius lavoristico. Questa sera affrontiamo il tema delle mensilità di ferite o meglio da voi conosciute come tredicesima e quattordicesima mensilità. Partiamo subito da una regola ben precisa, la tredicesima mensilità o gratifica natalizia viene elargita da tutti i contratti collettivi applicati, nel mese di dicembre solitamente entro la vigilia di Natale o entro il giorno 20 di dicembre, bisogna poi andare a vedere i contratti per capire esattamente qual è il giorno entro il quale deve essere pagata questa gratifica natalizia. La quattordicesima mensilità non è data da tutti i contratti collettivi nazionali, alcuni contratti la prevedono, altri non la prevedono, quelli che non prevedono questa quattordicesima mensilità ovviamente vengono e vedono le loro mensilità arrivare a tredici, quelli che chiaramente hanno la quattordicesima hanno un computo totale di mensilità su quattordici. Va da sé che anche il calcolo, la quota di trattamento di fine rapporto mensile che viene accantonata, viene accantonata per tredici mensilità per i contratti collettivi che non hanno quattordicesima e per quattordici ovviamente per quelli che invece la hanno. Che cos'è da capire di questa tredicesima e quattordicesima mensilità? Sono mensilità differite, di conseguenza sono mensilità che devono essere date nel mese di dicembre e parlano di una, ad esempio per la tredicesima, di una gratifica. Cosa succede? Succede che se per 11 mesi vi è stata una retribuzione e nel dodicesimo mese, mese in cui vi è poi la tredicesima, c'è stato per caso un aumento di contratto, la tredicesima mensilità deve essere calcolata tutta sulla retribuzione data a dicembre, proprio perché è mensilità differita, quindi non tiene conto di quello che è stato prima, ma tiene solo conto di quello che viene presa come base nel mese in cui viene elargita. Stesso discorso ovviamente per la quattordicesima. Alcune quattordicesime devono essere date nel mese di giugno, alcune quattordicesime possono essere date nel mese di luglio, questo sempre per un discorso di contrattazione. È importante capire che cosa? Che se si lavora almeno due settimane, quindi 15 giorni nel mese, si matura la tredicesima e si matura la quattordicesima, se si lavora meno di queste 14 giornate, non si matura il ratio di tredicesima e di quattordicesima, quindi un lavoratorio dipendente che venisse assunto in corso d'anno e in corso di mese, se viene assunto in corso d'anno, ovviamente prende le mensilità da quando viene assunto fino a dicembre. Facciamo un esempio, per chi viene assunto nel mese di aprile, le mensilità, diciamo, rate di tredicesima, ad esempio, saranno nove e non saranno certamente dodici, ma se nel mese di aprile la persona viene assunto dopo il giorno 15 del mese, le mensilità non saranno nove, ma saranno otto, perché avendo lavorato meno delle due settimane nel mese, non matura quel mese, ovviamente se viene assunto prima invece lo matura e se viene assunto il giorno 10, matura tutto il mese intero, non matura la procuota dal 10 alla fine del mese, è importantissimo questo. Quindi la discriminante è lavoro per più di due settimane o meno. Stessa cosa varia per la cessazione, se viene fatta una cessazione dopo il giorno 16 si maturerà il rato, se viene fatta prima non verrà a maturare il rato di tredicesima o di quattordicesima. Parliamo invece per esempio della malattia. Nella malattia, quando c'è un calcolo, vi sono contratti o nella maternità vi sono contratti che danno comunque tutta la tredicesima per intero, vi sono contratti che invece danno solo la differenza, la maternità viene pagata, ne abbiamo parlato in un altro aspetto risponde, per l'80%, vi sono contratti che danno solo la differenza del 20%, altri contratti invece che la danno totale anche con il pagamento dell'80%, faccio esempio il contratto del terziario. Vi sono contratti che la tredicesima, la quattordicesima, questi tutti i contratti, la inseriscono nel calcolo dell'attribuzione media per la malattia, quindi quando vi viene pagata una malattia e o quando vi viene pagata la maternità per quei contratti che prevedono comunque l'erogazione di tredicesima e quattordicesima totale, viene fatto nel calcolo dell'attribuzione media anche il ratio di tredicesima o il ratio di quattordicesima. Tredicesima e quattordicesima, come abbiamo detto prima, che concorrono al calcolo, diciamo la base per il trattamento di fine rapporto, quindi è importantissimo perché come abbiamo detto che possono essere dati o meno i ratei in base a quando si è assunti, anche per quanto riguarda il computo è importante perché questo computo di trattamento di fine rapporto con la tredicesima data e elargita viene a fare il calcolo totale per quello che poi è il trattamento di fine rapporto da dover elargire. Trattamento di fine rapporto, altro argomento che abbiamo trattato nell'esperto rispondo che voi sapete, se avete tutta un'azienda potete prendere subito, se invece avete dato un fondo di previdenza complementare dovete vedervela con il fondo di previdenza salvo penali. Abbiamo terminato con questa puntata, abbiamo parlato di tredicesima e quattordicesima, retribuzioni differenti, io vi ricordo i nostri programmi con Pole Position, con Top Secret, con Startupper, con Business Life, con il bastardo capitalista e tutti gli altri. A breve una novità con il nostro Marco Columbro con Green Beads, non resta che darvi appuntamento alla prossima puntata dell'Esperto risponde, un saluto dal vostro Antonio Scalchi. Grazie a tutti.